Benvenuti a tutti, oggi un video un po' particolare perché vi porto a vedere il tram numero 1 In effetti forse io lo prendo ogni tanto, però vabbè, poi il tram reale ve lo faccio vedere lo stesso Perché hanno portato, l'ATM ha pensato bene di portare il tram numero 1 al museo Scienza e Tecnica Leonardo da Vinci a Milano Però in realtà qui al museo mi ha portato qualcuno, vieni, 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 saluta tutti, Laura È interessante però la faccenda che hanno mantenuto all'interno gli obliteratori normali, quelli che ci sono normalmente Però hanno sostituito i cartelloni con le varie pubblicità e informazioni per i passeggeri Con le informazioni storiche che quindi arricchiscono quantomeno la salita sul tram che è ancora in realtà in servizio Forza, entra nel magico mondo degli youtuber, mi che cosa ne metti, forza Siamo a posa del tram e nel Cine d'Uomo Oddio, nel Cine d'Uomo Arrivati a questo punto non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati Inclusi i futuri magari un po' strani come quello di oggi Salute a tutti